bella a tutti ragazzi qui con un nuovo video oggi andremo a fare un level asian davvero difficile su gta online anzi ce l'ha scritto così nella descrizione poi non so se è realmente difficile in adesso abbiamo una bella salita da fare e speriamo che allora la mia wagner modificata ce la faccio quindi speriamo ok ok ce l'ha fatta ce l'ha fatta quindi poi dobbiamo fare questo wall ride e dobbiamo andare di sopra guardate che adesso a gta non ci sto giocando tantissimo sono bene o male due giorni circa che ci sto ricominciando a giocare quindi wall ride non li so fare benissimo ok qui dove andare a lenti che se no ecco sbandiamo e niente vabbè scialla ci dai ce la farò in tempo ma ce la farò ok questa volta questa volta andiamo piani no 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 mannaia che scivola ragazzi non è possibile se iniziamo così la gara finiamo male no dai metti metto ok ok adesso ce la facciamo ce la facciamo no niente niente ragazzi ormai scivola sempre in quel punto ci riproviamo un'altra volta se no smesso il video perché non posso andare a perdere tutto questo tempo per un video se no poi verrebbe davvero davvero troppo lungo vediamo un'altra volta se no niente vai vai no niente è solo la che sbanda vabbè ragazzi comunque ci vediamo subito dopo quando ho finito questo pezzo ok ragazzi finalmente ce l'ho fatto a fare questo pezzo ci sono stato letteralmente cinque minuti perché sbandava sempre nello stesso punto però vabbè adesso andiamo a completare quest'altro pezzo davvero davvero molto semplice qui rallentiamo perché dovevo fare niente pensavo che ci fosse una base così almeno potevo frenare invece niente dovevo frenare subito vabbè scialla quindi qua freniamo adesso ok quindi adesso andiamo qua però prima prendiamo un pochino di rincorso ok vediamo se ce la facciamo ok facile facile questo punto giustamente non mi prende il check grazie gta anzi anzi grazie gara adesso abbiamo un tubo normalissimo quindi percorriamolo in fretta anche se ancora la wagner la devo modificare cioè porterà alcune modifiche e niente bene ragazzi sono più di tre mesi che non gioca gta ed ecco i risultati davvero schifosi possiamo dire ok qui adesso dobbiamo girare dobbiamo andare di qua ok ecco che dobbiamo fa capito ma sto stagare non le faccio da un botto di tempo no 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 ok 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 se no ragazzi dovevo forza frenare se no finevo di giù ok adesso un altro wall ride molto semplice talmeno così qui adesso sto ricominciando a farli per bene ok ok bene adesso un altro tubo devo fare attenzione a non cadere devo andare ah devo andare proprio così no 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 aspettate ah no ho capito cosa devo fare ragazzi ok adesso ho capito devo fare un giro nel tubo ok adesso ho capito quindi adesso rifacciamo tutto il pezzo che abbiamo fatto prima dai forza devo potenziare i motori che se no questa wagner va davvero entra ok quindi qua adesso devo fare così giusto sì giustissimo adesso abbiamo un turbo e adesso ci sta il no 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 prendimi oh per fortuna ok ed eccolo qua il traguardo beh sinceramente nella descrizione hanno scritto che era molto semplice era molto difficile invece è stato soltanto quel pezzo però mi stavo già riabituando quindi ragazzi io come sempre vi ricordo lasciare un bel like e scrive al canale e non ci vedo con tanti altri video bella ciao